Non preoccupa, stando alle dichiarazioni dell'assessore alla salute Nicoletta Veri, l'aumento di positivi nella nostra regione che riguardano soprattutto giovani non immunizzati, visto che i reparti ospedalieri Covid e le terapie intensive fanno registrare un numero non allarmante di accessi. Abbiamo, e questo è l'elemento positivo, i posti liberi sia di terapia intensiva che di area medica e quindi ci fa ben sperare che questo virus anche se è molto contagioso però non crea problemi diciamo in maniera complessa, in maniera critica da arrivare poi a eventuali ricovero. Per quanto riguarda la campagna vaccinale è presumibile nel periodo di ferragosto un calo delle somministrazioni che sempre a detta dell'assessore verranno però recuperate nei giorni antecedenti e successivi. Stiamo seguendo quella che è la media nazionale che ci è stato imposto dalla struttura commissariale, lavoreremo durante il mese di agosto, ci sarà forse così come in tutta Italia una sospensione giusto per il 14-15 però compenseremo quei dati nei giorni antecedenti e nei giorni successivi. Poi il Green Pass, la Verisi dice favorevole all'utilizzo del certificato verde anche in vista della ripartenza dell'attività scolastica in presenza. Il Green Pass è uno strumento valido per mettere in sicurezza, ecco oggi ci troviamo in ospedale e giustamente chi entra in un policlinico deve in un ospedale, deve avere la possibilità di presentare il Green Pass ed è quello che abbiamo strutturato. Nelle strutture, specialmente quelle molto chiuse dove c'è un grande addensamento di popolazione è senz'altro uno strumento valido. Noi dobbiamo seguire gli indirizzi ministeriali, ci siamo sempre adeguati a questi indirizzi, oggi abbiamo ancora delle ipotesi, delle certezze, non le abbiamo quindi appena sarà definito quello che è l'indirizzo, quelle che saranno le linee guida noi le attueremo. E' ok per tornare in presenza a settembre? Senz'altro la presenza è un elemento importante, un elemento in cui la Regione Abruzzo ha dimostrato questa volontà, è stata tra le prime a riaprire, a richiedere la presenza anche quando c'era in atto una pandemia, quindi io credo nella presenza però in sicurezza.